Avrebbe compiuto 97 anni l'1 gennaio prossimo donna Yolanda, la mamma di Albano Carrisi, e sarebbe stata una festa grande, come ogni anno, accanto ai suoi figli e nipoti. Ma non ce l'ha fatta, le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi giorni. Ma una festa l'ha avuta comunque, quella di un intero paese, Cellino San Marco, che l'ha voluta omaggiare anche nel suo ultimo viaggio. Nella camera ardente prima, allestita nella chiesetta delle tenute, dove Albano le ha fatto compagnia per l'intera mattinata, stringendo le mani a tutti quelli che hanno voluto porgergli le condoglianze, e al funerale poi, che si è celebrato nella chiesa madre di Cellino San Marco. Troppo addolorato, anche solo per dire una parola, a parlare per la famiglia è stato il figlio Iari. Lei era un po' come la mamma, era diventata a un certo punto, nei primi anni Ottanta, quando i miei viaggiavano tanto e noi non potevamo sempre andare con loro. Davanti alla cattedrale, troppo piccola per contenere tutti, centinaia di persone hanno atteso il feretro, gente comune, del paese, amici e collaboratori di Albano. Tanti ricordi belli e simpatici, non è Yolanda come lo chiamavamo tutti, insomma, sempre una parola di affetto e di attenzione nei confronti dei figli e dei nipoti, ma anche degli amici e dei collaboratori. Nella piazza un silenzio surreale, soprattutto quando il feretro entra in chiesa e arrivano i familiari. Segno tangibile di rispetto per il dolore del momento, ma anche di profondo affetto nei confronti della famiglia Carrisi, come dimostra questa signora che è partita da Monopoli pur di esserci. Io amo queste persone perché hanno sofferto.